Luca Michelutto, Presidente ASVO. Oggi un'importante manifestazione qui a Bibione, un incontro con un partner ThetaPak importante soprattutto per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione. ASVO investe molto in questo perché crede che quanto più i cittadini siano informati sulla giusta correzione e riciclo dei rifiuti, tanto più possa rendersi efficiente questo progetto. Ma cominciamo con questo connubio, con questa importante azienda. Sì, importante questo connubio perché siamo partiti da un concetto base con le due amministrazioni comunali, quella di San Michele d'Alemento, dunque Bibione, e quella di Caorle. Non si può prescindere da fare risultati importanti sulla differenziata senza coinvolgere i turisti. Ma come coinvolgere i turisti? Ecco, il ThetaPak è un esempio di come si può coinvincere in maniera ludica, giocosa ma anche intelligente i turisti nel fare la giusta differenziata. Il ThetaPak è un rifiuto che è molto presente nelle spiagge perché ricordo che le bevande, i succhi, le salse vanno consumate nei ThetaPak e spesso purtroppo questo rifiuto lo troviamo nei bidoni sbagliati. Lo troviamo nel secco, lo troviamo nel vetropastica lattina, addirittura qualcuno lo mette nell'umido. In realtà, come voi sapete, il ThetaPak va nella carta perché pur essendo un poliacopiato è un prodotto che va recuperato nella carta. Ecco, il connubio, il sodalizio fatto con ThetaPak Italia porta proprio a questo, spiegare l'importanza del recupero del ThetaPak e coinvolgere il turista, che è un attore importante nelle spiagge di Caorle e Bibione, in questa raccolta. Ecco, quindi allora un obiettivo abbastanza importante appunto come comunicazione per tutti i turisti che sono molti nelle nostre spiagge. Gli obiettivi, Asvo, Presidente, in questo momento parliamo di riduzione al massimo di quella che è la differenza fra il recupero e il riciclo. Sì, l'importante è che stiamo lavorando con queste due amministrazioni comunali, visto che siamo qui a Bibione oggi, l'anno scorso questa presentazione qui l'abbiamo fatta a Caorle. Le due amministrazioni comunali stiamo lavorando in maniera concreta, abbiamo tolto le campane in tutta Caorle, abbiamo tolto le campane in tutta Bibione, ogni condominio nelle vicinanze ha la possibilità di fare la differenziata, abbiamo coinvolto le amministrazioni di condominio, le agenzie immobiliari turistiche, gli alberghi commercianti per fare una buona differenziata. E devo dire che già i risultati di maggio, stiamo adesso elaborando giugno, sono veramente confortanti. Dunque se aiutiamo il turista a fare la differenziata e coinvolgiamo tutti gli attori del sistema turistico Bibione e Caorle, dunque commercianti, agenzie turistiche, amministratori di condominio, albergatori, riusciremo a portare la differenziata ancora più in alto. Ecco un'ultima domanda Presidente, da poco tempo Asvo in alcuni comuni ha introdotto un nuovo contenitore, quello verde per quanto riguarda l'erba, il taglio dell'erba e le siepi. A che punto siamo e com'è andato questo esperimento che è stato fatto appunto in alcuni comuni? Beh è andata molto bene perché è un esperimento che ha avuto un gran successo nei primi quattro comuni che siamo partiti. Quest'anno, nel 2017, abbiamo coinvolto Fossal di Portogruaro e San Stino di Livenza. Va bene perché intanto l'utente a fronte di un piccolo pagamento non ha più bisogno di chiamare un numero verde, di aspettare il conferimento di rifiuto, basta che butti fuori il bidone nel giorno prestabilito. Ma la cosa più importante è che di fatto questo servizio viene utilizzato e di conseguenza pagato dai contribuenti che lo utilizzano. Prima era un gratuito, nei comuni che ancora è gratuito, un gratuito tra virgolette perché in realtà lo pagano tutti e il servizio lo utilizzano solo alcuni. Così facendo abbiamo secondo me innescato un meccanismo di giusta equità del servizio, cioè chi ha lo sfalcio dell'erba del proprio giardino può A portarlo in ecocentro, B può fare il compostaggio nel suo terreno, addirittura in questi comuni abbiamo inserito una defiscalizzazione della tariffa per chi fa il compostaggio nel proprio terreno, C può a fronte di 60 euro all'anno avere il bidone del conferimento personale e pagare un servizio che è dedicato solo a lui, dunque il suo vicino che non ha questo servizio non lo paga. Grazie Grazie